Quindi dove siamo? Oggi siamo in Piemonte, siamo venuti qui perché Ettore ci ha mandato un articolo sul Fenera, ma mancano le foto e quindi siamo venuti a farle alla grotta dell'Arenaria. Gli zaini leggeri? Abbiamo trovato anche le guardie del parco che ci hanno chiesto se avevamo i permessi. E noi? Siamo del gruppo di Biella e non ci ferma nessuno. Fantastico! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!